Buongiorno Ratzinger, o come ti chiama la mafia, Benedetto, o come ha sentenziato la magistratura, assassino, nel giorno in cui stanno uscendo in retroscena più vili di quanto accadutomi in Francia 2015, come quella notte durante la quale la figlia di un ministro francese entrò nella mia stanza e, mentre dormivo, abusò del mio uccello. I suini dell'Opus Dei ammettono l'omicidio di Steve Jobs. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.